musica 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 ora già inizia tutto malissimo tutto male inizia come al solito infatti io non ho neanche voglia di parlare no fatti guarda 15b tu avrai io avrò il 15b si parla più forte che ti sento e niente niente siamo riusciti a prendere il treno fortunatamente adesso si aspettano quanto tempo quanto dura il viaggio un'ora e mezza dai di viaggio e arriviamo ad asti musica musica abbiamo appena conosciuto una persona simpaticissima simpatica adesso noi pubblicizzeremo si chiama Edoardo Fiore Fiore esatto ecco mi stanno chiamando e niente abbiamo conosciuto questo ragazzo molto simpatico e ci siamo iscritti al suo canale andate a seguirlo andate a seguirlo andatelo a seguire mi fanno bene oh finalmente mamma mia siamo arrivati adesso c'è un problema tutta la roba finalmente siamo arrivati più viaggio più 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 quindi adesso siamo arrivati alla stazione buon roma bella 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 Finalmente siamo arrivati a casa e ho mangiato Adesso arriva la tisana E tra l'altro adesso devo andare a prendermi il manuale del montaggio cinematografico Diventerà un regista raga Siccome siamo ragazzi mattinieri Penso che adesso andremo a letto perché stiamo morendo Quindi domani A domani Eccoci qua Buongiorno Siamo ad Assi Buon pomeriggio E quindi vi facciamo vedere un po' quali sono le peculiarità di questa città Vediamo un po' La cugina prende un gelato Ci vediamo tra poco La cugina prende un po' quali sono le peculiarità di questa città So when you're down in depth you want to leave a prison in the sun Baby you won't make it to the sunrise Till the sunrise Till the sunrise It's alright Fragments of tomorrow Is it your sight Is it your sight It's alright So go Cause you're not lonely for the run now For the run now So go Cause you're not lonely for the run now For the run now It's so So many try to beat it one now Beat it one now Oh Ho finito di girare Asti Si basta Ormai abbiamo praticamente fatto tutto Tardio Sto facendo sera Sono le 7 Abbiamo fame Quella sempre Quindi vada a mangiare Vai Direi che con Asti abbiamo finito Basta Oggi È finita Mamma mia la giornata È tardissimo Che ore sono? Non lo so Saranno le 11 L'1.44 Non è troppo tardi ma sai dopo 6 ore dove giriamo Senza la sosta si sente Non sai niente Buonanotte a tutti Brutta foto Stanno rubando un treno Stanno rubando un treno raga Mayday mayday Sto lavorando Sto lavorando un treno raga Sto lavorando un treno raga Sto lavorando un treno raga